Quanti sono attualmente i volontari della comunità di Sant'Egidio e in quali città operano? Dunque, la comunità di Sant'Egidio, che proprio domani festeggerà il suo 52esimo anniversario, è una realtà grande in Italia. In Italia siamo oltre le 40.000 persone, non tutte ovviamente impegnate sotto il profilo sanitario medico. Siamo nelle grandi città, in particolare Napoli, Genova, Palermo, Milano, Torino, Firenze, Bologna, eccetera. E lì, in ogni città dove siamo, teniamo un pochino fede a quella che è la nostra, chiamiamola, vocazione, specificità, ben definita da Papa Francesco, delle tre P, preghiera, pace e poveri. Il discorso del volontariato, quindi, per noi si svolge attraverso questa linea, attraverso questo orientamento di queste tre P. Il discorso dei poveri è un discorso molto importante. Le nostre città, da sempre, sin dagli anni 60, quando siamo nati, sono circondate, particolarmente nelle periferie, e tutte le città, non solo Roma, da questa catena di umanità un pochino dolente. E i bisogni sono tanti, anche a livello medico. Per scendere un attimo nel dettaglio c'è un problema di lontananza, di inaccessibilità, tante volte, delle istituzioni da parte di chi è più periferico. Per fare un esempio proprio in dettaglio, per esempio la popolazione Rom, quella che vive nei campi qui a Roma, ma anche in altre città, ha molte difficoltà ad accedere ai servizi. E c'è bisogno di facilitazione, c'è bisogno di prossimità, c'è bisogno di gratuità, soprattutto. Noi siamo in questo senso, a livello medico, ma non solo, potrei dire a livello scolastico, a livello di facilitazione nell'ottenimento dei documenti, eccetera, siamo un pochino il tramite, siamo gli amici delle persone più povere che li accompagnano come amici, non come utenti, ma come amici a diventare utenti. Ci sono dei medici tra i volontari e se sì che attività svolgono? Allora, sicuramente ci sono medici tra i membri della comunità di Sant'Egidio e ci sono tanti medici che ci aiutano. L'attività, da questo punto di vista, l'attività più importante sicuramente a livello internazionale è il programma DREAM, quello della lotta all'AIDS, alla malnutrizione e soprattutto che punta all'ottenimento della nascita di bambini sani da mamme malate. In questi anni, ormai siamo quasi a 20, sono più di 100.000 i bambini che sono nati sani in Africa, in 11 paesi africani. Questo lo potete trovare sul nostro sito, i dettagli, i numeri. Ma c'è anche tanto bisogno qui a Roma, per esempio da quattro anni, dal 2016, con il progetto Galeno, abbiamo realizzato una cosa che pensavamo fosse impossibile perché non ci avevamo pensato, il discorso della vaccinazione. Con il progetto della scuola di formazione, tra cui i medici di Galeno, abbiamo realizzato una campagna di vaccinazione che ha coinvolto in questi quattro anni più di 5.000 persone. 5.000 poveri, nel senso non vicini, che non avevano la possibilità di usufruire di questi vaccini. Penso agli anziani, penso a molti stranieri, rifugiati, gente che frequenta le mense, gente che frequenta i campi Rom, o anche case di disabili, per esempio, dove il discorso della vaccinazione era più difficile da realizzare. Questo è stato molto importante. E poi questo del volontariato, mi consenta di dire, sottolinea uno dei temi della comunità di Sant'Egidio, quello della gratuità, cioè la vaccinazione che può comportare anche dei problemi, nel senso la proposta di essere vaccinati può causare a volte, attraverso il discorso della gratuità, guarda, questo è un amico, è un medico amico, viene qui per te, aiutiamoci. Ha favorito e credo reso molto utile questo discorso perché altrimenti i rischi sulla salute sarebbero aumentati. Ripeto i numeri perché sono importanti, più di 5.000, solo a Roma, negli ultimi quattro anni. A chi può rivolgersi un medico che desideri informazioni per diventare volontario della comunità? Può rivolgersi a noi, alla comunità di Sant'Egidio, sta a Trastevere, la sede centrale, piazza Sant'Egidio 3A, telefono 06585661, oppure può mandarci una mail dicendo appunto della sua disponibilità a info.chiocciola.santegidio.org. Questo è il modo più immediato e saremo ben contenti di accoglierli perché abbiamo tante cose in cantiere e c'è bisogno.